Il pannello che vi presento oggi può incontrare un chicco di grandine di queste dimensioni a 83 km orari e uscirne senza un graffio. Vi presento i Solitech Black Star. Ciao a tutti e bentornati su andreapicinelli.net Oggi vi porto alla scoperta di due pannelli fotovoltaici top di gamma utilizzabili nell'ambito della transizione 5.0 e che possono essere presi letteralmente ammazzate, dopo vedrete. Non li ho qui in studio perché oggettivamente non ci stavamo tutti e tre. Li vedremo tra poco in tutto il loro splendore nel mio giardino. Prima però vi racconto brevemente da dove vengono perché hanno attraversato l'Europa. Solitech è un'azienda lituana che nasce nel 2009 come parte di Bod Group, uno dei maggiori gruppi industriali lituani, e che oggi è uno dei pochi produttori di moduli fotovoltaici con sede in Unione Europea, per l'esattezza a Vilnius, nello stabilimento più green d'Europa, secondo un'indagine della Camera di Commercio tedesca. Chissà che un giorno non lo si riesca ad andare a vedere. Altrimenti mi basterà fare come Maometto che non va alla montagna perché tra fine 2025 e inizio 2026 dovrebbe aprire lo stabilimento Solitech in Italia. Devo dire che Vilnius Benevento è un bel salto. Ma perché vi parlo proprio adesso di Solitech? Perché continuo, anche se un po' rilento, la playlist sui prodotti made in Europe, ma soprattutto perché quest'anno in particolare è importantissimo conoscere i pannelli europei per realizzare gli interventi all'interno della transizione 5.0. Approfondiremo il tema di questa agevolazione per l'industria in un altro video, però per tutte le aziende che vogliono investire nella riduzione dei propri consumi, sappiate che parliamo di detrazioni fiscali che possono arrivare fino al 50% del costo ammissibile dell'investimento, e che per inserire anche il fotovoltaico in questo meccanismo è richiesto l'utilizzo di moduli fotovoltaici prodotti in Unione Europea. Ecco perché siamo qua a parlare di uno dei soli 19 produttori al momento iscritti alla lista Enea dei moduli europei. Andiamo a vederli. Eccoli qua nel tiepido solo invernale i nostri Solitech Blackstar B108 435 Watt. Questi due pannelli sono di identica potenza ma coniugati in due versioni di frame diverse. Entrambi sono vetro vetro e all black ma con alcune differenze. Il pannello di sinistra ha la classica cornice per il montaggio standard, con i pannelli a 2 cm l'uno dall'altro. Quello di destra invece ha la cornice speciale Sol Reef. A cosa serve? Invece di avere i pannelli separati, questi bordi permettono di incastrare un pannello con l'altro, sostituendo le tegole e integrando il fotovoltaico nel tettore, rendendolo parte essenziale della copertura, quella che una volta quando c'era il conto energia si chiamava totale integrazione architettonica. Vedete qui anche la gomma per evitare le infiltrazioni d'acqua tra un pannello e l'altro. In Italia non è molto comune ma nel nord Europa la soluzione di avere il tetto fatto di pannelli solari è molto apprezzata. E uno potrebbe dire, eh ma se si rompe un pannello sto con un buco nel tetto? A parte che no, perché sotto ai pannelli comunque c'è la guaina e c'è il resto del tetto. Ma in un certo senso Solitec può permettersi di correre il rischio perché offre sicurezza in più rispetto ad altri competitor, puntando su alti livelli di durata e resistenza dei propri moduli. Questi moduli hanno 30 anni di garanzia e non sono molti a poter dire lo stesso. I moduli Solitec sono praticamente le berline corazzate del fotovoltaico, insomma. Questi due modelli hanno resistenza alla grandine di livello 3, ma ce ne sono anche di livello 4 e a dicembre il modello con vetro da 3 mm ha ottenuto il livello massimo, il livello HW5. Che vuol dire resistere a chicchi di grandine più grandi di una palla da golf sparati a 110 km orari. A questo punto non posso non farvi vedere la pubblicità di Solitec che mi hanno girato con questa tizia che prende ammazzate il pannello per sfogare la rabbia repressa. Questo è lo humor lituano. Andiamo avanti con la recensione e giriamo i nostri due Black Star. Come vi dicevo sono moduli vetro-vetro bifacciali, infatti vedete che non hanno il classico fondo bianco dietro, ma le celle fotovoltaiche sono esposte anche nella parte posteriore, cosa che incrementa la produzione nelle installazioni su strutture inclinate. Un'altra cosa che mostra la cura nel dettaglio sono i connettori. Vedete la scatola di giunzione è divisa per ridurre al minimo questa fascia centrale e in più i connettori sono spostati sui lati per avere più lunghezza per il collegamento con gli altri pannelli. Nella piccola striscia centrale troviamo infine la targhetta Black Star B108 435 Watt con i dati elettrici che vedremo tra pochissimo e la targhetta costruito e assemblato in Lituania. Torniamo in studio per dare un'occhiata alla scheda tecnica. Allora il modulo Black Star è un modulo monocristallino da 108 celle N-Type bifacciale con una potenza nominale ovviamente con il raggiamento frontale di 435 Watt. Tensione correnti nella media, 36,92 V di tensione a vuoto, 13,8 A di corrente di cortocircuito sono parametri tranquillamente gestibili dalla maggior parte degli inverter in commercio. L'unico punto su cui si può dire qualcosa a Solitec che non è un valore al top è la tensione massima di sistema che si ferma a 1000 Volt come la stragrande maggioranza dei pannelli. C'è qualche competitor che arriva a 1500, ma proprio per voler cercare il pelo nell'uovo a questo pannello. Le dimensioni del modulo sono 1722 x 1134 x 30 mm per 25 kg di peso con un'efficienza del modulo del 22,27%. A questo punto passiamo alle caratteristiche che rendono questo pannello un top di gamma. Il carico massimo sul portato è di 8100 Pascal, il che significa che finché non saranno montati sul tetto li potrei usare come sdraietti. Perché ogni pannello regge complessivamente circa 1600 kg di carico neve. Considerate che la maggior parte degli altri pannelli girano intorno ai 5000-5600 Pascal di carico massimo. Come vi dicevo prima, resistenza alla grandine di livello 3, classe di reazione al fuoco di livello 1, quindi lo potete utilizzare tranquillamente sugli stabilimenti con il certificato di prevenzione incendi e completa nel quadro altri vari certificati di resistenza all'ammoniaca, alla nebbia salata, eccetera. Tutto questo permette a Solitec di offrire una garanzia di prodotto base di 30 anni e sempre 30 anni di garanzia di rendimento con un calo lineare e un rendimento minimo al trentesimo anno del 90% rispetto alla nominale. Da Solitec mi dicono che la durata di vita attesa di questi pannelli è di 50 anni, quindi in pratica li montate sul capannone oggi e fate in tempo ad andare in pensione senza averli visti i guasti. Tiriamo un po' le somme. A me personalmente questi pannelli sono piaciuti molto. Il tema della resistenza alla grandine, soprattutto negli ultimi anni e soprattutto nella mia zona, è entrato prepotentemente tra i fattori di rischio per il fotovoltaico e quindi apprezzo molto la ricerca tecnologica per risolvere questo problema. È stato bello anche scoprire una realtà come Solitec che in Europa basa la sua strategia di business sulla sostenibilità, ma prima di tutto interna al suo ciclo di produzione. Tant'è che hanno un sacco di certificati a livello di gestione dell'energia, economia circolare, insomma vi invito a scoprirli sul loro sito. A parte il mio gusto personale, i pannelli Solitec Blackstar sicuramente possono interessare a tutte le aziende che vogliono accedere alle detrazioni della transizione 5.0 e vogliono ridurre drasticamente il rischio che il loro investimento si guasti o venga danneggiato dalla grandine. Lo stesso naturalmente può valere per un impianto residenziale. Prima di tutto perché le ultime stagioni ci hanno dimostrato che certi eventi atmosferici fuori dall'ordinario non sono più così rari, ma a parte il discorso grandine, sono dei pannelli sicuramente da valutare per chi vuol vedere durare il suo impianto fotovoltaico per almeno 30 anni ad alte prestazioni. Bene, siamo arrivati alla fine di questa recensione, spero che vi sia piaciuta e che vi sia utile per i prossimi progetti. Per le ulteriori informazioni vi invito a visitare il sito di Solitec per maggiori dettagli sui loro prodotti, tra l'altro fanno anche sistemi di accumulo, quindi andateli a vedere. Prima di chiudere non dimenticatevi di cliccare mi piace, iscrivervi al canale per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video e lasciarmi un commento qua sotto. Nel riquadro qui accanto trovate la playlist che sto iniziando a popolare dedicata ai prodotti made in Europe. Invece se volete capire meglio come leggere la scheda tecnica di un pannello potete guardare questo video dove analizziamo nel dettaglio le caratteristiche più importanti che deve avere un pannello di qualità. Grazie come sempre per la vostra attenzione e al prossimo video.